Exoraptics, oggi vi presento questa Peugeot 208 1.5 di cilindrada a 100 cavalli, qui in versione Active Pack. Sul laterale troviamo cerchi lega da 16, il colore è nero, il bagagliaio è abbastanza capiente come potete ben vedere e spostandoci nella parte ulteriore abbiamo comodissimi sedile in tessuto con doppio attacco Isofix su entrambi i lati. Nella parte ulteriore invece arriviamo al centro dell'auto, quindi abbiamo questo comodissimo touchpad screen per gestire tutto quanto l'infotainment. Come potete vedere è inclinato verso il guidatore per essere più comodo. Subito sotto abbiamo tutta la gestione del clima, un sacco di vani porta oggetto e anche qui dietro. Il cambio è manuale a serie a porti, mentre il freno di stazionamento è sempre manuale. Per quanto riguarda il volante invece è in ecopelle, da questo lato possiamo gestire la gestione delle chiamate e qui sotto invece abbiamo la gestione del cruise control. I cristalli ovviamente sono elettrici. L'auto è stata immatricolata nel febbraio del 2023 e ha percorso soltanto 14 km. Trovate queste e moltissime altre auto sul nostro sito rattics.com Grazie a tutti! C'è meno. Grazie a tutti.